Qu'Italy che è già leader nel settore delle macchine per l'estetica, cosa portate qui al Cosmoprof? Quest'anno abbiamo presentato un laser per l'epilazione, un nuovo laser che si chiama QEPILASER 2.0 e ha come prerogativa di fare oltre all'epilazione anche il fotoringiovanimento. Inoltre abbiamo portato un'onda d'urto che lavora sia sul rimodellamento corporeo e sulla diposità e sulla cellulite. Oltre a questo abbiamo presentato un nuovo kit di prodotti da assemblare e eventualmente utilizzare con le apparecchiature e la prerogativa di QItaly è quella di utilizzare le macchine e i centri estetici e dare formazione e supporto tecnico. Grazie per la visione!